Carissimi amici benvenuti all'appuntamento con Autofrancia, vi ricordo come sempre l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, restate con noi questa è una puntata da non perdere perché Autofrancia ha riservato per voi offerte da accogliere al volo per il mese di maggio, ma andiamo con ordine, come vedete siamo negli showroom delle autovitture nuove di gamma Fiat Alfa Lancia Jeep che Autofrancia come sempre ha messo a vostra disposizione e pensate che questo mese su gamma Fiat potete avere uno sconto di rottamazione sulla gamma Hybrid fino a 5.000 euro per la vostra vecchia auto da rottamare, quindi sconti veramente pazzeschi per questo mese di maggio e potete accedere a un super finanziamento con rate veramente bassissime, vi faccio solo alcuni esempi, potete acquistare Fiat Panda Hybrid con rate che partono da 99 euro al mese e 500 Hybrid con rate che partono da 129 euro al mese, se invece volete acquistare autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero qui ne troverete oltre 400 tutte rigorosamente in pronta consegna con sconti che arrivano fino al 50% dal prezzo di listino e anche sulle autovitture targate sconto rottamazione per il mese di maggio. Poi potete anche sperimentare in modo nuovo di acquistare la vostra autovettura e cioè se non volete comprarla potete noleggiarla con il noleggio per privati, TTC zero pensieri, tutto tutto compreso zero pensieri, lo potete sfruttare sia sulle autovetture nuove che sulle autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero, avete dei canoni mensili veramente bassissimi e all'interno però avete servizi a 360 gradi e cioè avete assicurazione furto incendio, attivandalici, eventi naturali, sociopolitici, cristalli, vi diamo anche la casco, 5 anni di garanzia, chilometraggio illimitato, i tagliandi per 5 anni, la sostituzione delle gomme, quindi gomme stive e gomme invernali, sempre valore a nuovo sulla vostra autovettura, quindi zero pensieri. Qualunque cosa accada sull'autovettura targata Autofrancia col TTC zero pensieri non dovete mai mettere la mano al portafoglio se non per pagare il canone mensile che concorderete con i nostri professionisti, un canone che non dia fastidio al vostro budget familiare ma soprattutto non avete costi imprevisti per tutta la durata che decidete di noleggiare la vostra autovettura. Dal terzo al quinto anno quando volete siete liberi di fare quello che volete, la potete restituire, la potete sostituire oppure la potete riscattare e continuare con la vostra autovettura targata Autofrancia avendo sempre zero pensieri. Sta avendo un successo veramente pazzesco, chiedete di più ai nostri professionisti, troverete anche il numero di cellulare sul nostro sito che è autofrancia.it o meglio ancora venite a trovarci, tanti sono aperti sette giorni su sette, così possiamo spiegarvelo nel dettaglio. Quindi come vedete il mese di maggio è veramente il mese giusto per comprare la vostra autovettura che sia nuova, usata o chilometro zero o in pronta consegna come vedete oltre 400 a vostra completa disposizione, quindi impossibile non trovare l'auto che state cercando. Infatti quindi restate con noi che adesso ci trasferiamo nei padiglioni delle autovetture d'occasione aziendale e chilometro zero, occhio perché ci sono offerte veramente da cogliere al volo. Ecco siamo nel primo padiglione delle autovetture d'occasione aziendale e chilometro zero, restate con noi perché ci sono veramente offerte da cogliere al volo. Come vi ricordo oltre 400 autovetture d'occasione aziendale e chilometro zero, tutte rigorosamente in pronta consegna. Opel Corsa 1200 cavalli, Design Tech nuova chilometro zero 18.900 euro, se volete finanziare le rate partono da 189 euro al mese. Vi ricordo che Fiat Panda nuova questo mese potete acquistarla con rate che partono da 99 euro al mese ma abbiamo anche le chilometri zero in pronta consegna che partono da 12.900 euro, le abbiamo sia le versioni hybrid che le versioni con impianto eco-GPL. Volkswagen Up 1000 Evo 65 cavalli Move Up nuova chilometro zero, ve la proponiamo a 16.900 euro, qui le rate partono da 169 euro al mese. Vi ricordo che tutte le autovetture che troverete qui da noi all'autofrancia in pronta consegna potete anche noleggiarle con il noleggio per privati TTC Zero Pensieri con rate veramente bassissime, anzi canoni bassissimi e servizi a 360 gradi. Come vedete altra Panda in pronta consegna con impianto eco-GPL, abbiamo anche Toyota Yaris, questa è una 1000 Acti 72 cavalli nuova chilometro zero, ve la proponiamo a 17.900 euro, volendo le rate partono da 179 euro al mese. Troverete anche in pronta consegna nuova la 500 Total Electric, la versione Icon 118 cavalli 42 kilowatt, ve la proponiamo in super offerta per questo mese di maggio 27.900 euro, potete noleggiarla, potete finanziarla come volete. Volkswagen Tiguan 2000 turbo diesel, 4x4, 150 cavalli, ha veramente tutto quello che state pensando, venite a toccarla con mano e aziendale, ve la proponiamo a 38.900 euro. Bellissima, super pronta consegna, alfa, tonale, 1.500, iber, 130 cavalli, la versione speciale, quindi ha tutto quello che state pensando, ma questa è un'auto che dovete venirci a trovare e toccarla con mano, veramente fantastica, ve la proponiamo a 43.900 euro nuova chilometri zero. Come vedete abbiamo Volkswagen Tiguan e abbiamo anche Volkswagen T-Roc 1110 cavalli, la versione business, con un prezzo veramente fantastico, pensate, vostra a soli 23.900 euro, anche qui siete liberi di fare quello che volete, pagate in contanti oppure potete fare il finanziamento senza nessun problema. Vi ricordo anche, abbiamo quasi tutte le marche a vostra completa disposizione, questa è una Citroen C3 1200 PureTech 110 cavalli, quindi prestazioni spettacolari, questa parte da 19.900 euro, ma abbiamo anche le versioni 1.283 cavalli che partono da 16.900 euro. Fiat tipo, 5 porte hybrid, 130 cavalli, la versione cross, qui abbiamo cambio automatico, abbiamo tutto quello che volete, anche il navigatore satellitare, il touch da 10,25 pollici, nuova chilometri zero, 24.900 euro, rate che partono da 240 euro al mese. Abbiamo anche Toyota Yaris Cross 1.500, nuova chilometri zero, anche questa qui da toccare con mano, ve la proponiamo a 25.900 euro. Se cercate Jeep Renegade abbiamo sia chilometri zero che aziendali, questo mese partiamo da 16.900 euro, abbiamo sia le versioni benzina che le versioni hybrid, questa come vedete è una chilometri zero hybrid, bellissima la versione limited, che vi proponiamo un prezzo fantastico per questo mese di maggio, 28.900 euro, potete anche finanziarla con rate che partono da 280 euro al mese o se preferite potete noleggiarla col TTC Zero Pensieri, noleggio per privati. Correte con noi nel secondo padiglione d'autoviture d'occasione aziendale chilometri zero, perché l'autofrancia troverete quasi tutte le marche a vostra disposizione, come questa Opel Mokka 1.2 Elegance, 130 cavalli, nuova chilometri zero a 23.900 euro, troverete anche Peugeot 2.800, 1.2 Purtec 100 cavalli, all'URPEC nuova chilometri zero a 24.900 euro, ci sono le 500L aziendali che partono da 14.900 euro, Mercedes classe A, pensate, turbodiesel, ve la proponiamo a 26.900 euro, praticamente come nuova, concludiamo con Fiat Tipo quattro porte 1.600 turbodiesel, 120 cavalli, il lounge ve la proponiamo a 18.900 euro, volendo anche con TTC Zero Pensieri oppure con finanziamento con rate che partono da 199 euro al mese. Ecco purtroppo siamo giunti in chiusura, ma facciamo il repilogo di questa puntata. Vi ricordo le autovetture nuove di gamma Fiat Alfa e Lancia Jeep che Autofrancia ha messo a vostra disposizione sconto d'automazione su gamma hybrid questo mese, che arriva fino a 5.000 euro, quindi sconti veramente pazzeschi. E vi ricordo, sempre su gamma Fiat potete accedere a finanziamenti che partono da 99 euro al mese, in particolar modo su Panda e pensate 500 hybrid che parte da 129 euro al mese, quindi veramente rate accessibili a tutte le tasche per questo mese di maggio. Avete visto solo alcune delle autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero, ma come già detto, oltre 400 tutte rigorosamente in pronta consegna con sconti che arrivano fino al 50% dal prezzo di listino. Anche sulle autovetture targate per questo mese supervalutazione del vostro usato e soprattutto sconto rotamazione, potete risparmiare fino al 50% dal prezzo di listino. In chiusura vi ricordo anche il modo nuovo di acquistare le vostre autovetture, cioè se non volete acquistarle la potete noleggiare col TTC zero pensieri. Chiedete ai nostri professionisti, ve lo spiegheranno nel dettaglio, ma in due parole avete un canone molto molto basso con all'interno servizi a 360 gradi, quindi non avete mai imprevisti sulla vostra autovettura e dal terzo al quinto anno quando volete la potete restituire, la potete sostituire oppure riscattare, quindi proseguire con la vostra autovettura targata Autofrancia con zero pensieri, quindi massima libertà col TTC zero pensieri che sta avendo veramente un successo pazzesco. Ma chiedete nel dettaglio ai nostri professionisti, consultate il nostro sito autofrancia.it, lì troverete tutti i contatti dei nostri venditori anche con il numero di cellulare, potete avere un'anteprima della vostra autovettura, ma meglio ancora veniteci a trovare perché siamo aperti sette giorni su sette, anche il sabato e la domenica, qui troverete veri professionisti che vi faranno sentire come a casa vostra e saranno in grado di soddisfare al 100% tutte le vostre esigenze, questo è garantito al 100%. Quindi vi ricordo l'indirizzo Corso Francia 341 a Torino, vi ricordo che siamo aperti sette giorni su sette, quindi non avete più scuse, quindi il posto giusto per comprare la vostra autovettura e proprio qui a noi, all'Auto Francia. Vi aspettiamo!